Dobbiamo comprendere che la fede è l'unica cosa che piace a Dio. Ebrei 11,6 Senza fede è impossibile piacere a Dio, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e amo quello che dice adesso, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano diligentemente. Dio non vuole che crediate solamente che Lui esiste. Lui vuole che crediate attivamente che, se studiate la Sua parola, vi appartate con Lui, pregate regolarmente e dimorate in Lui, di certo ne avrete una ricompensa. Se infatti servite a Dio, la ricompensa arriva sempre. Amen!